Questo è il senso di civiltà, eccoli qua, vedi? È stata avviata questa mattina la bonifica di via Olmo Arteria che rappresenta la strada di accesso all'aeroporto di Salerno e che da troppo tempo è vittima del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti. A dare il via alla bonifica i sindaci dei comuni di Ponte Cagnano Faiano e Bellizzi che hanno anche acceso le telecamere per la videosorveglianza che dovranno servire da deterrente per gli incivili. Previsto anche un ampliamento della pubblica illuminazione. Stamattina proviamo a lanciare un messaggio di civiltà alle nostre rispettive popolazioni perché è assurdo che siamo quasi in centro urbano anche se sembra aperta campagna ma questa è una strada altamente trafficata perché qui è il secondo ingresso dell'aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi e quindi tenere questo schifo qui ormai è diventata una cosa assurda e con Giuseppe abbiamo pensato adesso di dare un messaggio forte installando le videocamere cercando di beccare un po' di questi furbi perché è assurdo mentre noi ci impegnavamo nelle rispettive comunità alla raccolta differenziata, al porta a porta che ha un costo altissimo, forse qualcuno non lo sa la raccolta differenziata e il porta a porta costa il triplo per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti. E stamattina vogliamo prendere di petto questa situazione perché in altri casi abbiamo trovato addirittura delle Eternit disperse qui in strada c'è un materiale addirittura della comunità rovea, materiale che dovrebbe essere distribuito alla Caritas io non credo che siano nuclei familiari singoli qui credo che ci sia proprio un gruppo organizzato qualcuno che va raccogliendo l'immondizia dai commercianti, artigiani, dai bar e li ha portati qui. Il lavoro che stiamo facendo in sintonia, devo dire, con grande sintonia con Mimmo Volpe è appunto quello di non tralasciare delle zone che possono essere a confine tra i due territori quindi con l'installazione di telecamere trappola con una maggiore attenzione anche da parte degli operatori della raccolta dei rifiuti perché non bisogna lasciare che le micro discariche aumentino perché altrimenti poi diventano un modo sempre di più per essere un po' da calamita per altri soggetti come diceva prima il sindaco di Bellizzi molto spesso non sono neanche residenti a Ponte Cagnano-Faiano ma a Bellizzi ma vengono dai comuni limitrofi. Non si può sanzionare economicamente una infrazione bisogna inasprire le pene per questa roba, per chi inquina il territorio, l'ambiente ci vuole l'arresto, non è possibile continuare a sanzionare pecunariamente chi disperde i rifiuti nell'ambiente perché fa un danno enorme alla salute di ognuno di noi quindi al legislatore va rivista quella norma qui lo diciamo al governo di impegnarsi maggiormente per quanto riguarda questa... alla caccia ai furbi perché se pensiamo che bisogna inasprire le pene per quanto riguarda agli evasori bisogna inasprire le pene per chi disperde perché attenta alla salute quotidianamente di ognuno di noi.